Siamo Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta a fare questo spettacolo che è sentito la niente progetti per il futuro, Iacchetti in questa circostanza non può esserci, perché ho portato lui che gli assomiglia e quindi parlo io perché non parla quasi mai ed è un show in cui due protagonisti uno particolarmente bello e l'altro è così così quello bello, so io nelle loro rispettive parti uno fa il parcheggiatore, l'altro è un presentatore televisivo quindi come dire si rispettano abbastanza anche i ruoli della vita, lo spettacolo è stato scritto da Francesco Brandi e dicevo questi due personaggi si incontrano sul cornicione, sul parapetto, il parapetto di un ponte perché si vogliono buttare da Copp a Basch, è in lingua lo spettacolo e cercano di convincersi l'un l'altro che non vale la pena fare questa cosa qua e le motivazioni per cui i due decidono di buttarsi sono una il parcheggiatore perché la moglie lo ha tradito, l'altro perché in un momento di stanca, di declino dalla sua professione televisiva, insomma è un divo quindi anche egocentrico, le cose gli stanno sfuggendo di mano quindi rischia l'oblio ed è anche un donnaiolo, uno che ha dei rapporti molto superficiali e sommari con le donne, scopriamo anche che la moglie è mia, mi tradisce con lui, insomma è una commedia degli equivoci, eh? Sì, e quindi insomma è una commedia, ovviamente una commedia divertente, dico ovviamente considerando nonostante gli acchetti, è divertente e alla fine non posso dire come va a finire la cosa perché se no se scoprite subito chi è l'assasino è ovvio che non si può dire, no? Però è divertente, ci sono volte in cui il pubblico è oceanico e volte in cui sono dodici e là quella è la differenza vera per quanto riguarda il pubblico, però devo dire che la Puglia è sempre stata da questo punto di vista numerico, al di là della qualità che come dicevamo è sempre la stessa, ma numericamente è sempre stata molto affettuosa generosa, eh? Sì, arrivederci, saluta, arrivederci.